buongiorno buongiorno con le stelle rubrica astrologica a cura di monica marillis buon venerdì 26 marzo 2022 e anche buona domenica 27 ricordatevi ci sarà il cambio dell'ora sì perché questa rubrica non esce la domenica io sono monica marillis e questo è il nostro appuntamento quasi quotidiano con le stelle i pianeti e l'astrologia e vediamo a che punto è la situazione dei pianeti oggi e domenica oggi sabato abbiamo la luna ancora in capricorno e che forma dei bellissimi aspetti con i pianeti in pesci prima con giove poi con nettuno poi con mercurio e poi prima di uscire dal seno del capricorno formerà anche una congiunzione con plutone un aspetto molto intenso che conferisce magnetismo capacità di guardare dentro se stessi soprattutto se si appartiene a capricorno toro vergine ma anche a pesci e scorpione questo aspetto si verificherà appena prima che la luna passi nel segno dell'acquario quindi già in serata tra le 11 di sera e luna circa della notte quindi praticamente quasi in contemporanea col passaggio all'orario estivo tutta la domenica sarà l'insegna della luna in acquario quindi una luna sempre non proprio nel segno segno dellezione perché come nel capricorno la luna in acquario non si sente particolarmente a proprio agio è un altro segno molto razionale molto logico e la luna è tutta emozione tutta emotività tutta sensazione intuito e quindi in questi due segni la luna acquisisce un carattere più lucido più razionale magari meno istintivo meno di pancia tutto viene filtrato alla luce della ragione della mente e a volte si diventa un po troppo mentali un po troppo cerebrali soprattutto con la luna in acquario tuttavia la giornata di oggi soprattutto mi sembra possa portare un miglioramento nella situazione generale il bell'aspetto di se stile che forma prima con giove poi con nettuno poi con mercurio mi auguro possa portare veramente a colloqui a una capacità di ascoltare l'altro nella giornata di domenica tra l'altro ci sarà un'altra new entry ovvero mercurio passa nel segno dell'ariete dove poi si avvicinerà sempre di più al sole quindi i pesci il segno dei pesci perde una una presenza quella di mercurio ma mantiene sempre giove e nettuno che sono dei veri e propri big del cielo mercurio rappresenta l'intelligenza la comunicazione la percezione anche la capacità di ascolto e se nel segno dei pesci questa caratteristica di mercurio si perdeva un po nel flusso del sentire dei pesci che sono immersi in questo oceano cosmico ebbene nell'ariete questa razionalità questa capacità logica di mercurio acquisterà un carattere più di azione quindi si tenderà a passare più all'azione e magari ad ascoltare un po meno questo può essere purtroppo un elemento a sfavore della situazione generale parlo ovviamente della situazione politica globale e quindi della capacità di parlare e di ascoltare soprattutto ebbene speriamo che suppliscano in questo senso i pianeti in acquario venere si sta stringendo a saturno sta per formare una congiunzione perfetta e quindi questo è un buon segnale verso la distensione e verso la comprensione delle ragioni degli altri quindi abbiamo degli aspetti a favore degli altri meno a favore di una capacità ovviamente diplomatica parleremo ancora di mercurio in ariete nei prossimi giorni teniamo comunque conto che per il periodo in cui mercurio sarà in questo segno ovvero una quindicina di giorni circa perché mercurio sta andando velocissimo in questo periodo e quindi in quel periodo la nostra comunicazione si farà un po più frenetica veloce immediata istintiva non mediata dalla riflessione e quindi a volte parleremo un po avanvera soprattutto se questo mercurio va a toccare dei punti sensibili del nostro tema natale penso per esempio agli stessi arieti ma anche alle bilance ai capricorni e ai cancri quindi questi segni dovranno fare particolarmente attenzione alla loro comunicazione fino a più o meno al 10 di aprile fino a metà di aprile insomma e vediamo come va il weekend per i vari segni cominciamo come al solito la nostra rassegna dal primo segno dello zodiaco l'ariete segno di fuoco che quindi vede in questo periodo sui suoi gradi passare il sole e mercurio a partire da domani ebbene sicuramente la domenica sarà per gli arieti molto più gratificante del sabato perché la luna in acquario è un ottimo elemento che riequilibra le emotività degli arieti mentre fin quando è in capricorno ebbene gli arieti si sentiranno comunque un po sotto pressione un po sulle spine ecco quando la luna passa in acquario saranno molto più sereni e padroni di sé e in più avranno anche mercurio che però come ho detto prima potrebbe rendere un po frenetica la loro loro bisogno di parlare per quanto riguarda il toro invece è il contrario il toro preferirà la giornata di sabato a quella di domenica proprio perché la luna è in buon aspetto al sabato e invece la domenica entra in un segno in dissonanza con il toro e quindi anche qua le emotività potrebbe farsi un po ad alti e bassi già nell'acquario il segno appunto in dissonanza in quadratura con il toro abbiamo marte venere saturno quindi i tori già sono un po nervosetti in questo periodo quando si aggiunge anche la luna ebbene potrebbero un po esplodere per i gemelli se la luna in capricorno non porta grandi differenze invece lo fa la luna in acquario e in senso positivo quindi i gemelli già stanno invece ricevendo ottime influenze dai pianeti in acquario si sentono molto più forti padroni di sé anche se è vero che ci sono invece dai pesci giove nettuno e mercurio che confondono un po le idee soprattutto impediscono ai gemelli di stare un po con i piedi per terra ebbene già il fatto che mercurio entra in riete quindi in un segno amico rispetto ai gemelli ed esce dai pesci quindi toglie un po di confusione e in più la luna in acquario sicuramente la domenica sarà un'ottima giornata da trascorrere come volete cari gemelli perché andrà tutto bene per il cancro la luna in acquario non cambia molto la situazione ma sicuramente il fatto che vada via dal capricorno ovvero dal segno che è in opposizione al cancro è già un sollievo e quindi anche per il cancro la domenica sarà una giornata molto più godibile del sabato per il leone tutto il contrario è vero la luna in capricorno non è diciamo che è neutra nei confronti del leone mentre invece la luna in acquario è in opposizione e si va ad aggiungere a marte venere e saturno ebbene proprio nella giornata di domenica i leoni potrebbero diventare ancora più consapevoli di quali sono gli aspetti che non vanno nella loro vita e quindi potranno accorgersi ancora più chiaramente con lucidità di quello che dovranno fare per cambiare la situazione per quanto riguarda la vergine invece il contrario ovvero il sabato sarà una giornata molto più tranquilla dove i vergini raggiungono uno stato d'animo solido tranquillo più sereno ma la domenica va bene lo stesso perché la luna in acquario è abbastanza ininfluente per la vergine per la bilancia la domenica sarà la giornata perfetta mentre invece il sabato porta ancora qualche affanno un po di stanchezza ma la domenica si possono rifare tranquillamente e lo scorpione invece per lo scorpione un po al contrario ovvero il sabato sarà una giornata molto produttiva in cui riescono anche a rilassarsi e a recuperare energie mentre invece la domenica porterà un po di stress e un pochino di agitazione per gli scorpioni per quanto riguarda il sagittario sabato tranquillo senza alti né bassi domenica sicuramente molto più produttiva serena da trascorrere all'insegna della socialità per il capricorno il capricorno perde la luna nel suo segno con la domenica ma non è questo per loro una grande perdita del resto forse la luna che passa nel loro segno li rendo un po troppo emotivi e questo non piace molto ai capricorni e perdono un po della loro razionalità con questa luna che li avvolge li coinvolge in emozioni a cui loro non sono abituati e l'acquario invece la luna nel proprio segno a partire da domenica porta un'intensità maggiore nel sentire le cose già l'acquario è iper stimolato sui suoi gradi ci sono marte venere saturno saturno è uno dei pianeti governatori dell'acquario quindi assolutamente in sintonia col segno marte venere forse portano un po di scompiglio uno scompiglio piacevole perché sono anche i pianeti che rappresentano la sensualità la passione l'energia quindi l'acquario in questo momento è molto stimolato ecco anche la luna che passa domenica e lunedì nel suo segno può amplificare questa sensazione a seconda del tipo di acquario probabilmente gli esiti saranno diversi ricordiamo che gli acquari possono essere di tipo saturnino uraniano o anche nettoniano e quindi c'è anche il tipo di acquario molto artista appunto contrassegnato dalle energie nettoniane c'è il tipo di acquario più realista quindi un uraniano c'è il tipo di acquario più logico concreto ed è quello contrassegnato soprattutto da saturno che sta per l'appunto passando nel segno vi ricordo che saturno rimane in un segno circa due anni e mezzo la luna con la sua carica emotiva amplifica un po tutto questo e quindi gli acquari gli acquari saranno sicuramente alla ribalta saranno protagonisti nei prossimi due giorni e infine l'ultimo segno il pesci che chiude il ciclo il pesci rappresenta l'oceano cosmico in cui tutto si riversa e si confonde tutto torna a mischiarsi in un grande brodo primordiale e da qui tutto può rinascere tutto può ricominciare però capite bene che è una gran confusione allo stesso tempo il segno dei pesci in questo segno ci sono giove nettuno signori del segno e quindi sono amplificate al massimo le qualità dei pesci anche quelle che magari non capiamo bene per cui tutta questa confusione che percepiamo che sentiamo nella società è sicuramente dovuta all'influenza di nettuno nel segno a cui si aggiunge giove che amplifica il tutto e quindi capite bene che non è così semplice viviamo in tempi caotici e di difficile lettura anche per i pesci sicuramente la giornata del sabato è migliore perché con la luna in capricorno una luna quindi improntata alla razionalità la logica che però è in un segno in una posizione favorevole ai pesci perché i due segni capricorno e pesci si trovano a una distanza di 60 gradi che è un buon aspetto un aspetto armonioso secondo la geometria dello zodiaco e quindi questa luna in capricorno porta i pesci a essere più concreti più razionali un pochino più coi piedi per terra mentre invece la luna in acquario la domenica potrebbe amplificare questa gran confusione che pervade quindi non solo il segno ma anche gli appartenenti al segno dei pesci che sono da un lato molto stimolati sono non hanno aspetti negativi in questo periodo però allo stesso tempo tutta questa pescinità che esplode potrebbe portare a non avere più una visione obiettiva delle cose ecco questo è il pericolo che corrono soprattutto gli appartenenti al segno dei pesci e anche oggi abbiamo finito con la nostra rassegna zodiacale non mi resta che augurarvi un buon sabato una buona domenica con la luna tra capricorno e acquario e quindi scegliete bene quello che c'è da fare nei prossimi due giorni e comunque trascorrete il weekend serenamente e dopo il nostro buongiorno con le stelle continuiamo la nostra giornata con spirito alto e buona energia e vi ricordo che se volete un consulto astrologico mi trovate sul sito www.monicaamarillis.com oppure potete scrivermi all'email info chiocciola monicaamarillis.com ciao ciao ciao